Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico per il palazzetto dello sport di Cerreto Guidi partiranno nei prossimi giorni e dureranno per tutta l'estate. Recuperare il festival Marea e renderlo un contenitore di eventi fatti dai giovani per i giovani è l'idea dell'associazione diritti in comune a Fucecchio. Arriva a Empoli l'iniziativa We Love Shopping sotto casa ideata da Confcommercio Empolese Valdelza, l'obiettivo è rilanciare il commercio di vicinato. A Certaldo sono state premiate le sei compagnie di teatro amatoriale che si sono esibite durante questa edizione del maggio amatoriale e si conclude così un'edizione molto partecipata. Mercoledì 3 luglio, buonasera dalla redazione di Clivo News. Dopo alcuni giorni in terapia intensiva in seguito ad un grave incidente avvenuto la scorsa settimana a Sovigliana, investito da un'auto mentre circolava in bicicletta, è morto all'ospedale fiorentino di Careggi Adama San, rifugiato politico ospite del centro accoglienza di Via Verdi a Empoli, gestito dalla Misericordia nell'ambito del progetto Sprar. Il 38enne sudanese lascia un fratello, anche lui ospite del centro accoglienza. Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico per il palazzetto dello sport di Cerreto Guidi partiranno nei prossimi giorni e dureranno per tutta l'estate. Vediamo il servizio. Partiranno a breve e andranno avanti per tutta l'estate i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico al palazzetto dello sport di Cerreto Guidi, un intervento importante al quale l'amministrazione comunale ha iniziato a lavorare da tempo. Dal 30 giugno scorso abbiamo chiesto a tutte le società sportive che utilizzano questo ambiente di non entrare, i campionati sono finiti per cui è anche il momento giusto e l'impegno con la ditta che a breve parte con il lavoro è proprio quello di fare queste azioni fondamentali senza che nessuno sia dentro nei mesi estivi. Poi se tutto procede come da cronoprogramma da settembre tutto ciò che è fatto all'esterno, quindi il cappotto termico e il completamento della sostituzione degli infissi potrà essere articolato anche con la compresenza dentro. È un'operazione veramente grande di cui siamo molto orgogliosi. L'intervento sarà a costo zero per le casse del comune poiché sarà interamente finanziato da alcuni bandi. Un investimento che parte da due anni e mezzo fa quando avevamo risposto ad un bando sull'efficientamento energetico per la progettazione. Quindi fatta la progettazione per la sostituzione dei pannelli siamo andati avanti nella richiesta di contributi e alla fine sono arrivati due canali di contributi da parte della regione e da parte del conto termico, il totale è 845 mila euro. Sono partiti stamattina i lavori dello storico Palazzo Landini Marchiani di Fucecchio che ospiterà la tenenza dei Carabinieri. Fucecchio avrà quindi un numero maggiore di militari rispetto a quelli attuali a presidio del territorio e con la realizzazione della tenenza nel Palazzo Landini Marchiani recupererà la palazzina attuale sede della stazione dei Carabinieri in piazza Montanelli, attualmente di proprietà del Demanio, per utilizzarla come nuova sede della polizia municipale. Recuperare il festival Marea e renderlo un contenitore di eventi fatti dai giovani per i giovani è l'idea dell'associazione Diritti in Comune a Fucecchio. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Recuperare Marea non solo come un revival di una vecchia festa ma anche e soprattutto come un nuovo contenitore di eventi per i più giovani, per coloro che hanno 20 anni e che a Fucecchio non hanno un festival dedicato a loro. È l'ambizioso obiettivo dell'associazione Diritti in Comune che sta preparando una serie di progetti per coinvolgere nell'organizzazione della nuova Marea sia altre associazioni che l'amministrazione comunale. È naturale che la sfida di riportare Marea a Fucecchio non la vogliamo portare avanti da soli, sarebbe sciocco. Noi vogliamo in questi mesi faremo di tutto per coinvolgere le associazioni, per coinvolgere i commercianti, per coinvolgere le contrade, per coinvolgere l'amministrazione, per capire se c'è davvero la voglia di riportare a Fucecchio un contenitore culturale per ragazzi che adesso non c'è più. Marea nacque nel 1995 e si chiuse nel 2017 dopo alcuni anni ormai in sordina. Negli anni sono stati moltissimi gli artisti di grande caratura nazionale ed internazionale che hanno partecipato al festival nella buca del palio di Fucecchio. La nuova Marea dovrà sapersi adattare a quelle che sono le esigenze dei giovani di oggi, possibilmente coinvolgendoli anche tramite le scuole nell'organizzazione. Il formato di Marea dovrà essere simile a quello passato, quindi essere un contenitore per diversi tipi di attività, che sono quelli dell'associazione, ma anche quelle dei concerti, quelle un po' più specifiche, culturali, quindi teatro, un po' di letteratura, forse anche un po' di cinema. Una delle idee che avevamo avuto da lanciare appunto alle scuole è quella di ricostruire la storia della cultura giovanile dal dopoguerra a oggi, quindi vedere come i giovani si sono rapportati con la cultura dal dopoguerra a oggi. E questo sarebbe un bel racconto per la prima edizione di Marea. Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede di Piazza della Vittoria Empoli, la prima seduta della giunta dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, dopo le elezioni amministrative del 26 maggio scorso. Dopo il quinquennio in cui la carica era stata affidata al sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ieri sera i sindaci hanno eletto all'unanimità il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, che sarà dunque il presidente dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per i prossimi 5 anni, fino al 2024. Arriva a Empoli l'iniziativa We Love Shopping Sotto Casa, ideata da Coffcommercio Empolese Valdelsa. L'obiettivo è rilanciare il commercio di vicinato. Vediamo il servizio. È tempo di tornare dai commercianti di fiducia. Sbarca anche a Empoli l'iniziativa We Love Shopping Sotto Casa, lanciata da Coffcommercio Firenze, con l'obiettivo di rilanciare il commercio di vicinato che negli ultimi anni sta subendo una forte crisi a causa della concorrenza con i centri commerciali e le grandi piattaforme online. Non ci dimentichiamo anche che il piccolo commercio è un presidio per il nostro territorio. Oggi si parla spesso di sicurezza e il commercio, il piccolo negozio nei centri storici è fondamentale. Le luci e i colori delle vetrine contribuiscono fortunatamente ancora ad allontanare quei fenomeni di degrado che invece si vedono palesemente in quei comuni dove purtroppo i negozi hanno chiuso i battenti e soprattutto in questo modo si riesce anche a scongiurare quei fenomeni di micro criminalità che purtroppo sempre più spesso stanno prendendo campo. Un'importante iniziativa per rilanciare il commercio di vicinato non solo in quanto tale ma anche per i moltissimi benefici che porta con sé, come testimoniano anche alcune aziende che hanno aderito. Crediamo che sia un'ottima vetrina sia per noi che siamo molto giovani come aziende noi come Quercus abbiamo aperto il nostro showroom da qualche anno qui su Empoli perché crediamo che sia giusto che le persone vadino a riscoprire i negozi del centro e delle proprie città. Aderire all'iniziativa per i commercianti è semplicissimo. Le aziende che vogliono aderire a We Love Shop in sotto casa possono venirci a trovare alla sede del commercio di Empoli in via Vanghetti oppure contattarci via mail o via telefono e riceveranno via mail il link per compilare un questionario. Questo questionario basta inserire i dati generali dell'azienda e in più è possibile inserire tutto ciò che riguarda aneddoti, la storia e lo staff dell'impresa. Insomma più dettagli si mettono più è possibile dare anche una buona immagine della propria azienda. Il Comune di Santa Croce sull'Arno ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di privati a vendere alloggi immediatamente disponibili e assegnabili da destinare all'edilizia residenziale pubblica. Gli immobili per poter essere proposti in vendita devono essere di nuova costruzione o integralmente recuperati, completamente ultimati, liberi da persone e conformi allo strumento urbanistico vigente. devono inoltre possedere obbligatoriamente la classificazione energetica non inferiore alla B. Si è concluso un maggio amatoriale molto partecipato. A Certaldo sono state premiate le sei compagnie amatoriali che si sono esibite durante questa edizione. Vediamo. Premiate le sei compagnie del maggio amatoriale certaldese per l'anno 2019, un progetto nato tre anni fa grazie all'apertura del nuovo teatro che riscuote ogni anno un grande successo di pubblico. Il multisala Boccaccio quindi è divenuto il palco di tutte le compagnie del territorio. Dopo tre anni possiamo parlare di un progetto ormai consolidato perché per tutti e tre anni si è verificato un grandissimo successo di questo esperimento. Era un esperimento che era per noi dovuto a alcune considerazioni. La prima era che avevamo inaugurato il nuovo teatro dopo una fase importante di lavori e di ristrutturazione e che come dicevamo sempre e continuiamo a sostenere doveva essere casa di tutti e quindi utilizzato dalle realtà culturali del nostro territorio. E seconda era la considerazione appunto di valorizzare tutte le esperienze che sul nostro territorio negli anni si erano formati a livello di teatro ammateriale. Oltre 1500 spettatori in totale, una media di 243 a sera in una sala che ne contiene al massimo 260 per sei mercoledì consecutivi nei mesi di maggio e giugno. Questi numeri che le sei compagnie che hanno partecipato alla terza edizione del maggio amatoriale hanno fatto registrare quest'anno. Tre edizioni di un'altissima partecipazione di pubblico. Quindi quello che stiamo chiudendo oggi, questa terza edizione, è la premessa per poter dire oggi con cognizione di causa che questo è un progetto che deve rimanere del tempo, che deve essere fortificato e consolidato, che veramente valorizza le nostre compagnie ma soprattutto fa anche tanto bene al pubblico certaldese che in gran massa risponde sempre con numeri molto importanti. Torna l'evento che celebra un altro noto prodotto artigianale di Montelupo Fiorentino. e più in particolare della frazione della Torre. Si tratta del vetro. Il programma della manifestazione prevede per tutta la durata della festa stand con mainstream vetrai che lavoreranno il vetro, impiagliatrici, mercatini e stand gastronomici. Tutte le sere saranno animati da spettacoli e concerti. Partirà lunedì prossimo la stagione dell'Empoli. La squadra agli ordini di Mr. Bucchi tuttavia è ancora in molta parte da costruire anche se i primi movimenti di mercato sono già iniziati. Sentiamo il commento del giornalista Alessandro Marmugi. Il conto alla rovescia è appena iniziato. Lunedì l'Empoli ricomincerà la sua stagione, il cammino in questo nuovo campionato di Serie B. Lo comincerà con Christian Bucchi alla guida e con una rosa che in questo momento è ridotta all'osso. Sarà infarcita di giovani, di ragazzi che arrivano dalla primavera, di giocatori che rientreranno dai prestiti. Perché l'Empoli è nuovamente da ricostruire. Fa parte dei giochi, la dirigenza sta già lavorando ampiamente sul mercato. Lo sta facendo il DS Pietro Accardi. Lo sta facendo cercando i nomi giusti per la squadra azzurra. Vicinissimi a vestire la maglia dell'Empoli. Sembrano in questo momento due giocatori. Uno è Karim Laribi, trequartista, che in passato ha giocato nel Sassuola nell'ultima stagione e ha contribuito alla promozione in Serie A del Verona. Giocatore che si adatterebbe molto alle caratteristiche del modulo di Christian Bucchi e andrebbe a giocare dietro le punte. Vicino a lui invece è praticamente fatta per l'arrivo dal Genoa di Kevin Piscopo. Una delle sorprese dell'ultima Lega Pro. Un giovane di talento che è riuscito a esprimersi al meglio nella carrarese di Silvio Baldini assieme a due vecchie conoscenze come Massimo Maccarone e Ciccio Tavana. Rinforzi di valore sono le basi per costruire l'Empoli della prossima stagione. L'Empoli di Christian Bucchi. Tanti, tantissimi nomi. Gioco forza perché l'Empoli ha praticamente un centrocampo, un attacco da ricostruire. Si vedrà chi arriverà. Nel Mirino ci sono Moreo che però adesso sembra vicino al Lecce e coda del Benevento, anche Mancuso del Pescara. Tanti nomi che potrebbero arrivare. Uno che se ne va è Levan Micelizze. Dopo 13 anni in azzurro saluta. La società ha scritto per lui un toccante messaggio. Se ne va una delle ultime bandiere, anche se non ha avuto molte chance, dell'Empoli. Non ci sono altre notizie. Vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento è domani alle 19.40 con Clivo News.